Mi chiamo Gianni, sono di Roma, ho 66 anni e nel 2012 ho scoperto di avere il tumore alla prostata. Dopo un ciclo di radioterapia, non ho effettuato la cura per circa due anni, ho scoperto che avevo un altro grosso problema, era dovuto all'attività sessuale. Dopo aver consultato vari specialisti e tutto quanto, mi sono rivolto al dottor Antonini, il quale mi ha spiegato bene la situazione, qual era la mia situazione e cosa avrei potuto ottenere facendo l'intervento che ho eseguito lunedì scorso. Sono venuto a Lavana, in una struttura, il Sira Garzia, molto ben attrezzata. Dopo due giorni siamo stati portati qui alla Pratera, un centro di riabilitazione, dove attualmente mi trovo e dal terzo giorno potevo regolarmente effettuare tutte quelle che erano le funzioni che al momento mi erano un po' limitate a seguito dell'intervento. Intervento che è durato un brevissimo tempo e da dopo l'intervento ho riacquistato una certa fiducia in me stesso ritrovando quell'aspetto che avevo prima della malattia. Mi sento soddisfatto di quello che ho fatto, di come sono stato seguito, del tipo di cura, di assistenza sia psicologica che medica. Consiglio a chiunque abbia questo tipo di problematiche di effettuare una visita presso il dottore, che tra gli altri ho trovato ad essere uno dei più affidabili che si possano trovare fra Roma e provincia. Mi sento veramente rinato, sono molto soddisfatto, perché sono contento, tanto lo posso esprimere in modo che da quando ho fatto l'intervento mi sarei svegliato un appetito sessuale e mostruoso dovuto a rivedermi come era una volta, a vedere la trasformazione che per alcuni anni mi aveva condizionato nei comportamenti, nelle relazioni sociali, mi aveva condizionato in tutto, pur essendo una persona ben inserita nei contesti, ma mi dava un senso di insicurezza che alla fine mi ha pregiudicato anche alcuni rapporti, sia con lo stesso sesso che col sesso femminile. ho sofferto molto, oggi a distanza di 4 giorni dall'intervento mi sento forte come all'overo a 20 anni, mi sento veramente rinato, sono contento di averlo fatto. 5 giorni, 5 giorni e sto così. Grazie 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 a tutti.